Il mio allenatore si chiama Gesù. Sono Carlo Nesti e vi invito a leggere questo libro dell'edizione San Paolo durante i mondiali di calcio, ricordando che fu proprio Papa Francesco un anno fa in Brasile a parlare di fede e sport. Ecco come sto vivendo le emozioni delle partite. Inghilterra a zero, i dagli a zero al 35esimo del primo tempo. Stiamo mettendo in difficoltà i nostri avversari sulla destra grazie all'incursione di Darmian che combina bene con Candreva. Sono chiamati in causa adesso proprio Candreva e Verratti. Parte un passaggio rasoterra con l'ottima finta di Pirlo. C'è Marchisio che ferma la palla, prova il tiro e la palla in fondo al sacco. Flendida azione degli azzurri sicuramente studiata in allenamento. Inghilterra a zero, Italia a uno al 37esimo del primo tempo. Sterling, uno dei più pericolosi, mette in movimento Runei sulla sinistra. C'è un cross, si avventa Sturridge e pareggia. Purtroppo appena due minuti dopo il nostro avvantaggio, Sturridge pareggia. Niente da fare per Siribu. Inghilterra a uno, Italia a uno al quinto del secondo tempo. Attacchiamo ancora e sempre bene sulla destra con Candreva che affronta Baines. Lo supera, può effettuare il cross verso Balotelli sul palo più lontano e segna! segna Mario Balotelli che si flocca dopo otto mesi. Vischio finale dell'arbitro. Inghilterra a uno, Italia a due.